Dimenticare Mi sono rimasti da narrare solo frammenti casuali Il cui disordine mi rende anche oggi Un uomo incerto Mi chiamo Pier Selle E sono nato ad Agenou Il 16 agosto 1923 Sono morto a Tolosa il 25 novembre 2005 E questo è il mio ultimo pensiero Il 16 agosto 1923 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 Il 16 agosto 1923